Eccoci qua, buonasera. Il telegiornale parte dalle notizie, dai numeri del contagio, perché siamo tornati indietro praticamente di cinque mesi, siamo tornati a fine aprile, perché oggi, come non succedeva appunto dalla parte finale del mese di aprile, siamo attorno a 2.500 nuovi casi in 24 ore, è aumentato anche a 21 il numero dei decessi, ma preoccupa la progressione del contagio, anche se stiamo relativamente meglio, anzi stiamo decisamente meglio, numeri alla mano di paesi come la Francia, che hanno avuto 14.000 nuovi casi nelle ultime 24 ore, paesi dove i morti ora sono centinaia. Ma certo, noi sappiamo che abbiamo ricominciato la scuola dopo gli altri, ripreso le attività con maggiore cautela, ma tutto è ripreso. Bisogna vedere come la situazione sta peggiorando, che stia peggiorando è indubitabile, ma si è ancora sotto controllo, come dice il governo. Il quale governo, peraltro, annuncia un prolungamento dello stato di emergenza, che doveva scadere tra una settimana, fino alla fine di gennaio. L'annuncio dato direttamente da Conte ha provocato la protesta degli esponenti dell'opposizione, la Melonia ad esempio dice, ma siamo l'unico paese d'Europa che ha ancora lo stato di emergenza. Se ne discuterà evidentemente in Parlamento. Per il governo c'è un altro passaggio che è atteso, ma difficile per come si sta sviluppando. Quello del superamento dei decreti sicurezza di Salvini. Andranno le modifiche in Consiglio dei Ministri lunedì prossimo, ma c'è a quanto par di capire una richiesta del Movimento 5 Stelle di non procedere con un nuovo decreto per le modifiche, di fare una legge ordinaria e di lasciare al Parlamento la discussione. E questo perlomeno stando alle parole del capo politico dei 5 Stelle crimi. C'è peraltro ancora tensione tra le due forze di maggioranza, anche le principali, anche sulla questione del MES. Una nota stasera di tutti i parlamentari della Commissione Finanze del Movimento 5 Stelle, un comunicato che dice che il MES non serve. Non è un caso che nessun paese europeo l'abbia fin qui chiesto come ha messo Gualtieri. Ma come vedremo in realtà della materia economica del MES e anche del Recovery Fund si parlerà domani nella riunione, nel vertice europeo, che è iniziato già oggi e che tratta nella prima giornata delle tensioni all'esterno dell'Unione Europea, quindi Bielorussia, Turchia, Armenia e Azerbaigiana. Cosa succederà? Ci sono timori di un rallentamento del processo di assegnazione degli aiuti a fondo perduto e dei prestiti agevolati. L'Italia è quella che ne avrà più di tutti e su questo ci sarà domani battaglia. Ma come vedremo ci sono molte altre cose di cui parlare perché ci sono anche le notizie che arrivano sull'occupazione, ci sono le notizie, gli aggiornamenti sul scandalo che come si sa tocca la Santa Sede dopo il siluramento del Cardinale, ora non più Becciu. Ma vedremo anche che il calcio ha il primo intoppo, c'è già una partita che salta, è proprio quella partita tra Genoa e Torino che non si potrà giocare perché ci sono 12 giocatori del Genoa positivi al coronavirus. Questo e altro, 30 secondi di titoli. Impennata dei contagi da Covid in Italia nelle ultime 24 ore, 2548 nuovi positivi, quasi 700 più di ieri. Per trovare un numero così alto bisogna tornare al 24 aprile in pieno lockdown. Secondo gli esperti sono i primi effetti della riapertura delle scuole. L'agenziale farmaco europeo ha iniziato a analizzare i primi dati del vaccino di Oxford, quello che viene realizzato insieme a un'azienda italiana. E con il rialzo della curva epidemica Conte annuncia il prolungamento dello stato di emergenza. Proporremo al Parlamento una proroga fino al 31 gennaio, ha detto. L'ipotesi viene contestata dalle opposizioni. Perché siamo l'unico paese europeo ancora in emergenza? Chiede Giorgia Meloni che come Salvini è la capogruppo di Forza Italia al Senato. Bernini aspetta Conte davanti alle Camere. Il governo mette mano ai decreti sicurezza, i provvedimenti bandiera di Salvini parati dall'esecutivo giallo-verde. Le modifiche saranno presentate nel Consiglio ai Ministri di lunedì prossimo, ma restano molte incertezze e anche distanze sia sulla sostanza del provvedimento sia sulle modalità del suo superamento tra PD e 5 Stelle. Crimi ricorda che il ricorso al decreto deve soddisfare le esigenze di necessità e urgenza, altrimenti litera il disegno di legge. Soluzione con tempi lunghi e incertezze che non piace al PD. A Bruxelles sono iniziati i lavori del vertice straordinario dei 27 paesi dell'Unione Europea. Oggi c'era in primo piano la politica estera con le crisi in Bielorussia e Nagorno-Karabakh. Domani in agenda c'è però il recovery plan. Timori di uno slittamento dell'erogazione di fondi anticrisi per un nuovo braccio di ferro sulla concezione di Stato e di diritto. Si sa che i contrari sono Ungheria e Polonia. Ma al summit tornano anche le tensioni con i paesi cosiddetti frugali. L'allarme del calcio italiano dopo i casi di positività al coronavirus tra i giocatori del Genoa. Ben 12 salta ufficialmente la partita dei rosso-blu con il Torino ma è a rischio anche il match clou di domenica Juve-Napoli. Solo sabato il secondo tampone. I giocatori partenopei daranno il via libera eventuale alla partita. Sorteggi di Champions. Buonasera. Sui fatti della giornata che sono tanti si solleva in qualche modo anche la ventata negativa che arriva dalla divulgazione a metà del pomeriggio dei nuovi dati sul coronavirus. Ebbene siamo tornati sopra 2.500 nuovi casi in 24 ore. Un numero che non si toccava dal 24 aprile. E c'è quindi preoccupazione. Cosa può succedere nei prossimi giorni e nelle prossime settimane? Vedendo anche le progressioni degli altri paesi europei. Questa sera la Francia ha annunciato 14.000 nuovi casi in linea con le giornate precedenti. Ma certo stiamo parlando di entità numeriche molto molto pericolose. C'è tra l'altro anche un numero di vittime 63 che è triplo rispetto a quelli italiani. Sotto controllo ma non troppo la curva italiana dei contagi da coronavirus segna un nuovo significativo rialzo e le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che stamattina visitando una scuola in Campania aveva parlato di situazione critica ma ancora sotto controllo assumono un significato più chiaro. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono ben oltre la soglia dei 2.000 casi. Non accadeva da fine aprile. Pieno lockdown. 2.548 nuovi positivi, quasi 700 casi in più rispetto al dato di ieri. Un forte incremento che non si può spiegare soltanto con il numero record di tamponi processati, 118.000. E che vede il balzo notevole dei contagi in Veneto con 445 nuovi casi. Il Veneto oggi ha tolto il poco invidiabile primato di regione con il maggior numero di nuovi contagi alla Campania che ha fatto registrare 390 nuovi positivi. Seguono la Lombardia 324 e il Lazio 265 dove la regione preannuncia l'obbligo di mascherina all'aperto per tutto il giorno. Aumentano seppur di poco anche i decessi. 24 oggi ieri erano stati 19. Una fotografia, quella fornita dai dati, che preoccupa e non poco il Governo. Così, dopo il Premier Conte, anche il Ministro della Salute ha ribadito la necessità di attuare tutti i protocolli e impegnarsi a rispettare le regole di prevenzione. Dobbiamo resistere col coltello tra i denti in questi 7-8 mesi difficili che ci attendono, ha spiegato Roberto Speranza. Ma mentre resistiamo, dobbiamo anche guardare al futuro. Parole pronunciate all'interno di uno stabilimento farmaceutico, a Danagni, dove partirà la produzione del vaccino anti-Covid. Proprio da quel fronte arrivano oggi le notizie più confortanti, perché l'Agenzia Europea del Farmaco ha iniziato ad analizzare i dati del vaccino contro il Covid-19 messo a punto a Oxford. È il primo passo dell'iter di approvazione e quello di Oxford, a cui collaborano le istituzioni e le imprese italiane, è il primo candidato che arriva a questa fase. La decisione di avviare l'esame del vaccino si basa sui risultati degli studi preliminari, secondo i quali il vaccino innesca la produzione di anticorpi e cellule del sistema immunitario, che prendono di mira il virus. L'auspicio, ha detto ancora il Ministro della Salute, è che si possano avere buone notizie sul vaccino in un tempo abbastanza breve. La nuova prensione porta con sé la notizia che il Governo è intenzionato, anzi è proprio già deciso, di chiedere il prolungamento dello stato di emergenza fino al 31 gennaio. Praticamente si arriverebbe a un anno di stato di emergenza a causa prima della prospettiva, poi dell'arrivo della pandemia e poi del suo perdurare. Certo, le parole di Conte sono chiare, ma sono altrettanto chiare quelle dell'opposizione. Come mai, dice Giorgia Meloni, siamo gli unici in Europa ad avere ancora lo stato di emergenza? Abbiamo convenuto che andremo in Parlamento a proporre la proroga dello stato di emergenza, ragionevolmente fino alla fine di gennaio 2021. Fino alla fine del prossimo gennaio, ancora quattro mesi che ci porteranno a un anno esatto dal primo provvedimento emergenziale. Fino a gennaio 2021, con il parere favorevole, anche se non ancora ufficiale, del comitato tecnico-scientifico preoccupato della situazione in Europa, soprattutto in Francia. Fino al gennaio 2021, perché il Covid torna a rialzare la testa, la situazione è ancora critica e richiede la massima attenzione dello Stato e dei cittadini. Per questo, dice Conte, abbiamo deciso che andremo in Parlamento a proporre la proroga dello stato di emergenza, che al momento scade il prossimo 15 di ottobre, seguendo il principio della massima prudenza, come ha spiegato il Ministro della Salute, Roberto Speranza. Dall'opposizione alla prima a protestare, Giorgia Meloni, che parla di un governo opaco, che non fornisce alcuno studio serio per giustificare la proroga di un provvedimento altamente impattante per gli italiani e per l'economia nazionale. Si chiede la Meloni, perché siamo l'unica nazione in Europa ancora in stato di emergenza? Il governo ha il dovere di spiegare agli italiani qual è la situazione reale. E dalla Lega, Matteo Salvini, sollecita Conte a venire presto in Parlamento a raccontare quello che vuol fare, perché noi non sappiamo nulla, al governo scappano e litigano. Non siamo pregiudizialmente contrari alla proroga, fa sapere da Forza Italia Anna Maria Bernini, ma ci chiediamo una cosa. A cosa serve prolungare l'emergenza se il governo ripete ogni giorno che la situazione è sotto controllo? E comunque aspettiamo il Premier in Parlamento. Ma c'è attesa anche all'interno della maggioranza. Lì l'attesa è per una data più ravvicinata, quella di lunedì prossimo. Arriva in Consiglio dei Ministri la modifica dei decreti sicurezza di Salvini, quelli che il PD aveva chiesto sin dall'inizio, un anno fa, del nuovo governo di modificare in maniera radicale. Solo che, appunto, un anno dopo ancora questa modifica non è assicurata. Se stiamo alle parole di questa sera degli esponenti dei 5 Stelle, che vorrebbero non una modifica radicale, ma soltanto l'accettazione e, in qualche modo, l'ottemperare a quelle che erano state le richieste e gli appunti fatti dal Capo dello Stato in sede di promulgazione del secondo dei decreti sicurezza e nulla è più. Quindi posizioni molto divergenti, anche sullo strumento da usare, perché per crimi non ci vuole un altro decreto per cancellare quei due decreti. E il rischio, ovviamente, che tutto si impantani, il rischio o l'opportunità dipende dai punti di vista. Le modifiche ai decreti sicurezza saranno presentate al prossimo Consiglio dei Ministri. La riunione del governo sarà lunedì sera e non più domenica, perché di mezzo ci sono i ballottaggi comunali. Per il PD, che aspetta le modifiche ai cosiddetti decreti Salvini dall'insediamento del Conte 2, un primo risultato da incassare dopo l'esito delle regionali che ne ha rafforzato la posizione. Ma le resistenze nella maggioranza, lato 5 Stelle, non sono affatto scomparse. Il reggente Vito Crimi mette in dubbio l'esito finale del confronto. Sui decreti sicurezza avevamo preso l'impegno di migliorarli e lo faremo, assicura, per poi precisare. È importante che non si veicoli nei paesi del Nord Africa un segnale errato di confini aperti o di fermessi facili. Crimi loda il testo messo a punto dal ministro dell'Interno Lamorgese, in base alle criticità denunciate dal capo dello Stato, ma avverte. Ricordo che un decreto, in quanto tale, deve soddisfare le esigenze di necessità e urgenza, ed è ciò che deve valutare il Consiglio dei Ministri. Come dire che la partita è ancora aperta e che i 5 Stelle di governo proveranno ad indicare la strada del disegno di legge, con tempistiche ovviamente più lunghe di quelle di un decreto che è di immediata applicazione. Si annuncia battaglia anche se fonti PD considerano l'uscita di crimi più una mossa propagandistica che un vero e proprio fuoco di sbarramento. Del resto i decreti sicurezza, uno dei provvedimenti simbolo del governo giallo-verde, anche se portavano la firma di Salvini, erano stati in buona parte condivisi dal movimento, bollato come vigliacco dall'ex alleato. Oggi a Catania è iniziata la tre giorni organizzata dalla Lega in attesa dell'udienza preliminare per il caso Gregoretti, che vede sotto accusa Salvini. Già pronto a combattere con un referendum le modifiche ai suoi decreti. Se per fare un dispetto a Salvini fermano quota 100 e a zero nei decreti sicurezza, fanno il mare dell'Italia. Però io aspetto di leggere i testi, non gliela faremo passare così. Vedremo, e intanto però c'è una partita che è quella europea e che si fa più difficile. Oltretutto in patria, va aggiunto anche questo, PD e 5 Stelle restano su posizioni molto diverse, per non dire opposte, riguarda l'utilizzo dei 36 miliardi del MES, il fondo salva stati dedicato alle spese sanitarie. Il PD lo vuole assolutamente e anche oggi viene confermato da tutti gli esponenti di quel partito, da Zingaretti in giù. E la stessa cosa, al contrario, non lo vuole nessuno e dicono gli esponenti del Movimento 5 Stelle. Una scelta andrà prima o poi fatta, ripetiamo, quasi ogni sera. Anche qui sono praticamente sei mesi che la stiamo aspettando, da quando fu varata questa misura di aiuto agli Stati membri. Ma in realtà le preoccupazioni maggiori in queste ore sono per il Recovery Fund, che potrebbe essere molto più lento nel suo arrivo, sotto forma sia di aiuti a fondo perduto che di prestiti agevolati. Se ne parla al Vertice Europeo, domani, la prima giornata dedicata alle questioni internazionali. Bielorussia, Turchia, Nagorno, Karabakh. Il menù della cena del Vertice Europeo iniziato questo pomeriggio prevede piatti piccanti per la giovane politica estera dell'Unione, che deve fare i conti con un vero e proprio conflitto armato, quello tra Armenia e Azerbaijan, alle porte di casa. Ma tra un piatto e l'altro l'interesse dei singoli capi di Stato e di governo va però altrove, al portafogli. A Recovery Fund il massiccio pacchetto di prestiti e sussidi deciso al Summit dello scorso luglio per rimettere in piedi le economie europee colpite dal Covid. Nelle ultime 48 ore è scoppiata una bega diplomatica tra Commissione Europea, Ungheria e Polonia. Queste ultime accusate di mettere il bavaglio alla magistratura, ergo di non rispettare lo Stato di diritto e quindi al rischio per la riscossione dei fondi anti-Covid. A questo si aggiungono Olanda, Austria e i paesi nordici che esattamente come fecero a luglio cercano di mettere i bastoni tra le ruote per limitare i sussidi e aumentare i prestiti, in particolare all'Italia. Il rischio, lo teme la Germania, presidente di turno dell'Unione, è che questa bagarre possa ritardare l'erogazione dei soldi del Recovery. Si tratta di questioni che erano prevedibili e che verranno risolte. Era ampiamente previsto che la formalizzazione, cioè la conclusione di queste procedure, numerose procedure legislative ordinarie, in un caso speciale in altre, avrebbe richiesto qualche settimana e che quindi, diciamo, nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, il Recovery Plan sarebbe entrato alla fine dell'anno e all'inizio dell'anno successivo. Gualtieri, che da ex presidente della Commissione Affari Monetari dell'Europarlamento conosce bene i bizantinismi e macchinazioni dei negoziati europei, sembra dunque ottimista e non è l'unico. Avevamo pensato che ci fossero delle possibilità per chiudere entro il mese di ottobre. Secondo il Parlamento questo è possibile. Vedremo se i 27, sotto la regia della Merkel, riusciranno a trovare una soluzione che Viktor Orban, uno dei due premier sul banco degli imputati, avrebbe già pronta. Non si può consentire ai dibattiti sullo Stato di diritto di rallentare l'istituzione del fondo di emergenza, dice l'ungherese. Ma se non si dovesse trovare una soluzione, meglio allora concludere accordi bilaterali, fuori dal quadro dell'Unione Europea, con buona pace dello Stato di diritto. Come si vede la situazione resta intricata e noi sappiamo che il nostro Paese ha sicuramente bisogno di tutti quei soldi in prestito o anche sotto forma di aiuto. Perché? Perché il sistema Italia non si è risollevato dalla mazzata del lockdown. E anche i dati di oggi sull'occupazione, che pure ha una forma di ripresa, sono eloquenti. La cattiva notizia è che rispetto a un anno fa mancano all'appello 425.000 posti di lavoro. La buona notizia è che in realtà, se è vero che ad agosto 2019 si contavano più occupati, la differenza rispetto a febbraio di quest'anno, ultimo mese prima del lockdown, si è ridotta a 350.000 unità. Pian piano stiamo dunque recuperando posizioni, ma la strada è ancora lunga. Lo dice l'Istat, che presenta i dati sull'occupazione relativi al mese di agosto e la tendenza, già registrata nei mesi scorsi, da quando è terminato per l'appunto il lockdown, sostanzialmente viene confermata. L'occupazione, rispetto al mese di luglio, è cresciuta di uno 0,4%, che significa 83.000 posti in più. Uomini, soprattutto, e giovani sotto i 35 anni, distribuiti in maniera tutto sommato abbastanza uniforme fra lavoratori dipendenti, autonomi e partite IVA. Se è vero che sono state infatti soprattutto le donne e i giovani a patire gli effetti della crisi, essendo occupati più che gli uomini in settori come terziario e servizi falcidiati dal lockdown, è anche vero che sono stati fra i primi a ripartire, lo si era visto, nei dati occupazionali di luglio. Adesso, invece, c'è una prevalenza di uomini occupati e, in particolare, di lavoratori autonomi. Segnale questo tutto da interpretare. Potrebbero essere contratti anomali, tentativi di flessibilità alternativa da parte delle aziende o, anche in questo caso, un semplice riequilibrio della situazione. Al momento, comunque, in Italia lavorano circa 22 milioni e 900 mila persone. Ci sono 2 milioni e 400 mila disoccupati e ben 13 milioni e 600 mila inattivi, il che significa un tasso di disoccupazione del 9,7%, che per i giovani però arriva al 32,1%, decisamente ancora troppo. Dobbiamo anche oggi parlare delle questioni che scuotono la Santa Sede. Sappiamo cosa è successo nelle finanze del Vaticano, investimenti affidati a personaggi esterni senza scrupoli, perdite gravi, soldi che sono stati attinti anche dal fondo personale privato del Pontefice, a sua insaputa, ovviamente. E tutto questo, tra l'altro, in giornate in cui il Vaticano, con la sua diplomazia, si dovrebbe occupare anche d'altro. Oggi l'incontro tra il segretario di Stato americano Pompeo e il suo pari grado, perché si chiama segretario di Stato anche quello vaticano. Parolin, si sa che il tema è quello dei rapporti con la Cina. Al di là della diplomatizzazione, del incontro, del colloquio, ci sono distanze molto, molto ampie e c'è irritazione, soprattutto da parte vaticana, per le accuse che vengono rivolte proprio alla Santa Sede dagli Stati Uniti e di intese con la Cina, pericolose per tutti. Ma, come si diceva, l'attenzione è a quelli che sono gli sviluppi dello scandalo Becciu. Una settimana dopo il siluramento dell'ormai ex cardinale Becciu, la Santa Sede diffonde un'intervista al prefetto della Segreteria per l'Economia. Presentando i dati del 2019, padre Juan Antonio Guerrero Alves parla anche dello scandalo. È possibile che in alcuni casi la Santa Sede sia stata, oltre che mal consigliata, truffata. Credo che stiamo imparando da errori o imprudenze del passato. Ora si tratta di accelerare, su impulso deciso e insistente del Papa, il processo di conoscenza, trasparenza interna ed esterna, controllo e collaborazione tra i diversi di Casteri. Possiamo certamente commettere errori, sbagliare o essere truffati, ma mi sembra più difficile che questo accada quando collaboriamo e agiamo con competenza, trasparenza e fiducia fra noi. La guerra di Francesco alla corruzione e alle opacità trova applicazione anche nell'attuale tremenda circostanza. Filtrano così i contenuti dell'indagine e anche rifatti assai anteriori. Addirittura si scopre che sette anni fa la gendarmeria aveva definito il finanziere Raffaele Mincione, indagato per l'acquisto gonfiato del Palazzo di Londra, persona moralmente inadatta ad avere rapporti con la Segreteria di Stato. La nuova linea rende accessibili anche gli atti istruttori e così circolano i verbali degli alti prelati e dei funzionari al centro dell'inchiesta da un anno esatto. È il primo ottobre del 2019, infatti, quando i gendarmi acquisiscono documenti e PC nella Segreteria di Stato e nell'autorità di informazione finanziaria. Il giorno dopo vengono sospesi in cinque, i loro volti diventano foto segnaletiche. Il nome più altisonante è quello di Monsignor Mauro Carlino, all'epoca segretario del sostituto della Segreteria di Stato, il Cardinale Angelo Becciu, numero tre della Chiesa dopo Bergoglio e Parolin, divenuto nel 2018 prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e cacciato dal Papa in pochi minuti il 24 settembre. Don Carlino, radiato dal corpo diplomatico e rispedito a fare il prete nella diocesi d'origine, Lecce, ha cominciato a collaborare quasi subito assieme a Monsignor Alberto Perlasca, che di Becciu era al braccio destro e in seguito alle accuse della magistratura è stato rimandato nella sua como. Entrambi hanno raccontato la mala gestio di Becciu, che con un modo pacato e cortese di impartire gli ordini e la capacità di evitare scontri diretti, avrebbe agevolmente tenuto sotto controllo il personale della Segreteria di Stato per sentirsi libero di alimentare una rete di relazioni pericolose, soprattutto con Enrico Crasso, gestore delle finanze della Segreteria di Stato e col mediatore molisano Gianluigi Torzi. I Monsignori pentiti hanno affossato Becciu senza pietà, ricordando ad esempio quando lui, dopo aver trasmesso fondi vaticani alla Caritas di Ozieri, anziché direttamente alla cooperativa del fratello, apparve sollevato per aver trovato un escamotage che lo allontanava da ogni sospetto. Parliamo ancora dell'epidemia, ancora dei contagi, perché, come sappiamo da qualche giorno, questi toccano anche il mondo dello sport e precisamente il calcio, rendendo già impervio il cammino del campionato di Serie A che è appena iniziato, che ha inanellato soltanto due giornate. Come si sa, ci sono ben 12 giocatori della stessa squadra, il Genoa positivi. Ebbene, a questo punto è stato ottenuto da parte della società Ligure lo spostamento della partita che si doveva giocare tra due giorni con il Torino. Ma il problema, come si sa, è un altro. Se si inizia con questo, come si andrà avanti? E soprattutto il contagio di giocatori che hanno magari giocato partite pochi giorni prima. Cosa vuol dire nell'ambito di incontri di calcio che comportano inevitabilmente presenze ravvicinate e impossibilità di distanziamento? Lo sapevamo già, il calcio al tempo del Covid è come una barchetta dentro una tempesta. Difficile dire se ce la farà ad arrivare nonostante gli sforzi. Il susseguirsi di tamponi, le attese per trovare uno spiraglio per poter giocare in sicurezza, correre dietro a possibili rimedi tutti da inventare, nonostante i protocolli, il tutto in stadi semideserti. Insomma, le onde sono sempre più minacciose. Oggi si è deciso che la partita della terza giornata a Genoa-Torino non si giocherà, rinviandola a data da destinarsi. Al piccolo esercito di giocatori rosso-blu positivi si è aggiunto anche Mattia Destro. Per quanto riguarda il Napoli, dopo la prima serie di tamponi tutti negativi, si attende con ansia il risponso di quelli che verranno effettuati venerdì e sabato alla vigilia della sfida con la Juventus. E siccome la missione è giocare, oggi la Lega Calcio ha recepito il regolamento UEFA, quello che prevede in caso di 10 giocatori del gruppo positivi che la squadra si presenti almeno con 13 calciatori più un portiere, altrimenti scatta la sconfitta per 3-0 tavolino. La Lega ha introdotto la regola del bonus del jolly da utilizzare una sola volta nella stagione per chi non riesca ad allestire una compagine che vada in campo. Ma già spuntano le polemiche perché è chiaro che un grande club avrà certo possibilità molto superiori di ovviare all'assenza dei giocatori positivi, avendo una rosa ben più ampia dal punto di vista qualitativo. Il presidente della Federcalcio, Gravina, veste i panni del capitano al timone dicendo che seppure determinati nel portare avanti le competizioni, la salute dei tesserati è sempre stato il motivo ispiratore. Chissà se la pensa così anche la UEFA, che oggi ha composto i gironi di Champions League da giocare a partire dal 20 ottobre in un'Europa sempre più assediata dalla seconda ondata del virus. Ad ogni modo è andata abbastanza bene alle quattro italiane impegnate. La Juventus è stata sorteggiata con Barcellona, Dinamo Kiev e Ferenc Varos, l'Inter con il Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Borussia Mönchengabach, l'Atalanta con Liverpool, Ajax e Midgilland, la Lazio se la vedrà invece con Zenit, Borussia Dortmund e Bruges. Ecco due cose, intanto l'ufficio stampa del Napoli giustamente ci dice che sono già stati fatti i tamponi tutti negativi ieri, oggi ce ne sono stati altrettanti nello stesso modo e ci sarà un terzo giro sabato prima di partire. È chiaro che il Napoli sosterrà la trasferta soltanto avendo saputo che tutti i giocatori sono negativi o se no farà le sue scelte. L'altra notizia che riguarda sempre il Covid e sempre il calcio ma proprio la Champions League di cui avete visto ci sono stati i sorteggi è che secondo l'UEFA i tifosi potranno andare allo stadio a vedere gli incontri di Champions fino a coprire un massimo del 30% della capienza e degli impianti. Non poco, come si sa, per ora in Italia soltanto un massimo di mille persone partecipa alle partite ma penso che faccia premio sulla scelta internazionale è quello che decidono i paesi e le varie federazioni in patria. Bene, detto tutto questo, dopo di noi a 8 e mezzo gli ospiti di Lilligruber sono Silvia Sciorilli Borrelli il ministro Vincenzo Amendola, Beppe Severnini e il professor Massimo Galli poi a Piazza Pulita, tra gli ospiti di Corrado Formigli ci sono Andrea Crisanti, Giuseppe Remuzzi, Slavaggio Lucarelli Mario Calabresi, Carlo Calenda e c'è un'intervista esclusiva pepata con Alessandro Di Battista ci fermiamo Infine le borse poco mosse vedete Milano ha chiuso con un più 0,24% con lo spread a quota 136 punti mentre a Wall Street in questo momento il Dow Jones balla attorno alla parità in questo momento più 0,04% con Nasdaq più decisamente a più 1,23% in rialzo è tutto Gruber Formigli ci vediamo domani sera buonasera 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 Grazie a tutti